GF 15 News, un familiare di Eva Enger partecipa al reality. Ecco chi è. Il Grande Fratello 15 sta per iniziare, ma un altro possibile concorrente potrebbe far discutere tanto. Ecco di chi si tratta. . Lunedì 16 aprile inizierà la nuova edizione del Grande Fratello 15 versione classica. Quest'anno però, la conduzione del cancelletto reality è stato affidato ad una grande conduttrice di Mediaset, Barbara D'Urso. . Quest'ultima dopo un lungo corteggiamento da parte dell'emittente televisiva, ha acceduto dando la sua disponibilità di condurre nuovamente il noto reality del cancelletto Grande Fratello. . Tuttavia, però, la nuova edizione di quest'anno conterrà parecchie novità rispetto alle edizioni passate, ad esempio la diretta 24 su 24 ore sarà tolta, ma sembra che nelle ultime ore circola la notizia che Mediaset fornirà la possibilità di vedere i protagonisti del reality in diretta almeno nelle ore notturne sul canale Mediaset Extra. . Naturalmente, questa limitazione alla maggior parte del pubblico da casa non è piaciuta, come d'altronde anche il fatto di inserire nel cast gente famosa. Scopriamo nel proseguo della news le ultime notizie a riguarda il Grande Fratello Nip. . Grande Fratello Nip 2018, il marito di Eva Enger possibile concorrente del reality? Nelle ultime ore una notizia clamorosa sta circolando in rete riguardante una persona molto vicina all'ex porno star Eva Enger. . Stiamo parlando del marito Massimiliano Caroletti, il quale durante un'intervista rilasciata alla rivista Oggi ha fatto delle dichiarazioni davvero clamorose riguardante il reality show di Mediaset, io ci andrei al volo nella casa. Mi metterei a nudo ma farei ovviamente anche squadra con alcuni miei coinquilini. Quindi il marito di Eva Enger si candida per sbarcare nella casa più spiata di Italia, aggiungendo nel proseguo dell'intervista, sarei senza filtri e soprattutto vero. . Ma credo che questo spaventi molto in televisione, visto che le persone come me non si vendono e automaticamente non si gestiscono facilmente. Vi piace l'ipotesi di vedere il marito della Enger all'interno della casa del Grande Fratello?. Cristiano Malgioglio e Simona Izzo affiancheranno Barbara D'Urso per la conduzione del GF 15. La conduttrice Barbara D'Urso ha scelto di essere affiancata dal noto cantautore Cristiano Malgioglio e la nota regista e doppiatrice Simona Izzo. . Naturalmente, entrambi gli opinionisti daranno del filo da torcere ai concorrenti della casa, ma anche alla conduttrice Barbara vista la loro esuberanza. . Se volete rimanere aggiornati su tutte le notizie sul mondo dello spettacolo e programmi tv vi invitiamo a cliccare il nome dell'autore dell'articolo e successivamente il tasto segui.